Ha visto la città cambiare, ha servito caffè, cappuccini e gente comune, VIP, sindaci, prefetti, parlamentari, attori, subret, comici, uomini d'affari. Ha scandito l'incedere del capoluogo, accompagnando da dietro il bancone il volgere delle stagioni, l'avvento del digitale, le chiacchiere del primo mattino e l'amore condiviso per la sua città. Varese è una gran città, ho girato un po', ho fatto il militare a Roma, a Rieti, vicino Roma, però Varese è sempre Varese. Eppure Donato Calitri, storico barman dell'ancor più storico bar Pirola, locale simbolo del centro di Varese, è tutt'altro che vecchio. Lui di anni ne ha solo 54 ed era il 3 marzo 1981 quando iniziò a maneggiare la macchina dell'Espresso, diventando col tempo interlocutore e confidente per centinaia di clienti e di generazioni. Un talento, il suo, senz'altro appreso dalla famiglia Pirola, nelle sue diverse location culminate oggi nello splendido locale di Via Veratti, ma anche da papà. Sono un figlio d'arte, come si suol dire, mio papà ha fatto dal 66 al 70 in Corso Roma, allora si chiamava Corso Roma. Vedete che fondamentalmente è ancora un giovanotto, quindi vuol dire che è iniziato molto giovane. Assolutamente, ho 14 anni e 3 mesi. In Via Morosini, ho fatto 4 anni, poi sono passato in Corso Matteotti e niente, siamo andati avanti, ho fatto il militare, poi 10 anni fa siamo passati qui in Via Veratti e siamo qua tutt'ora oggi. E poi, come detto, i personaggi. Alcuni passati, altri rimasti. La cantante Ornella Vanoni, l'attore Renato Pozzetto e, guardando a ieri, il grande compianto Gino Barmieri, ma anche il manager dello sport Beppe Marotta, politici di ogni età, casacca e colore e uomini di Stato, come l'ex prefetto Cavallo, tutt'ora assiduo cliente. Insomma, da quel primo caffè sono passati 40 anni e sono ancora tanti gli affezionati piroliani che attendono la solerta e mano di Donato, il suo sorriso, il suo approccio affabile e gentile e, perché no, la sua pazienza. Allora, possiamo dire una cosa, che il caffè ce n'erano 5 tipi. Ristretto, normale, lungo, macchiato, corretto. Adesso non ne parliamo più. Tazza calda, tazza fredda, col cubetto di ghiaccio, col cacao, con la cannella, al vetro, lasciamo perdere. E poi anche la gente negli anni è cambiata, una volta era più calda, una volta aveva tempo, adesso sarà l'euforia del lavoro, hanno tutti fretta, hanno tutti fretta. È una catena di montaggio praticamente.